Bentornati cari amici, bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy. Quest'oggi abbiamo un caro amico che viene a trovarmi a casa mia, faremo un pranzo tutti insieme, siamo amici di infanzia, che ha un camper e deve installare il regolatore MPPT da 40A della Epiver. Ha montato due pannelli da 150W l'uno, li mettiamo in serie ed andiamo poi a collegare il tutto. Quindi vedremo tutta la procedura di collegamento e l'azionamento e l'accensione ovviamente dell'impianto fotovoltaico del camper. E qui parliamo di un impianto a 12V che però viene gestito con un regolatore MPPT. Perché? Perché sfruttiamo il collegamento in serie dei due pannelli. Abbiamo preso un 40A così abbiamo un magine molto largo, è una macchina molto stabile, come ben sapete l'Epiver è una marca tra le migliori previ regolatori, non ha ventole quindi non produce rumore, ha grandi alete di dissipazione quindi il calore viene dissipato in maniera molto efficiente e non abbiamo problemi di installazione all'interno di un camper. È l'ideale per appunto un camper, non deve provocare, non deve fare rumore. Tutto questo è correlato anche con il controllo remoto MT50, quindi andiamo a configurarlo. le batterie sono batterie AGM, sono batterie al piombo, che verranno ricaricate appunto da questi due pannelli da 150W collegati in serie. Quindi andiamo ad iniziare la procedura di installazione e vediamo un po' come funziona. Andiamo! Sandro, Sandro, Sandro Ciccari, Sandro, Sandro, Sandro Ciccari Mo te vedo! Due monocristallini da 150W l'uno collegati in serie. Mo te vedo! Adesso andiamo ad attaccare i pannelli. Pannelli collegati, abbiamo 41-42V di ingresso, 1A,7A e 4,85A alle batterie. Regolatore acceso, funzionante, 13,9V la batteria, 14V, 5A in ingresso, 42V, 1,6A dai pannelli. Tutto perfettamente funzionante. Musica 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 Allora cari amici sono il mio amico Piero. Amici da, buongiorno a tutti, amici purtroppo vi metto una foto da quando avevamo ancora i pantaloni corti. Mamma mia! I denti di latte addirittura, ma un nera latte. No, un nera latte. Abbiamo sistemato l'MT50 e il regolatore da 40A dell'Epibe, pannelli collegati in serie, ve lo fate vedere, 150W l'uno. Tutto perfetto. Ha fatto tutto lui, eh? Quindi io sono fatto solamente il supervisore. No, ha fatto la regolazione. Eh vabbè, ho regolato l'MT50 per quello che mi ricordavo, perché devo essere sincero, non me lo ricordavo più, però... Ho fatto la cosa alla fine più importante. Fantastico. Io ho preparato e il maestro ha dato il corpo finale. Comunque oggi si fa un bel pranzo tutti insieme, quindi ha la faccia di chi ci vuole male. Poi alla fine io sono venuto per questo. Eh certo. Potevo farla in giardino. Ha mangiato in giardino, temperature ancora perfette, l'impianto è uno spettacolo, poi nei prossimi giorni ci saranno tutti i test, le varie cose. Ci sarà da mettere la sondina della temperatura della batteria che non c'è, ce l'aggiungiamo dopo, ma ce la mette Piero con calma nei prossimi giorni. Ci penso io, riaggiorniamo. Quindi ragazzi, per adesso andiamo a mangiare, poi ci riaggiorniamo più tardi, va bene? Allora, ora facciamo un bel brindisi all'impianto solare di Piero e a questo bellissimo pranzo. Saluto a tutti. Sperando che non salto per l'aria. Ciao ragazzi, iscrivetevi, ha fatto la mia signora, io pannelli quanti ne volete, ma mangiare no? Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.